E' un paese che si ha bisogno di... Pronto? Ciao Ciao Amar Come va? Senti, allora Di quella cosa che vi dicevi del video Allora, senti Mi nota sta idea qui Praticamente Ho trovato uno studio Aspetta, ho trovato uno studio Per filmare Senti idea, allora Semplicemente ci sei Tu legato a una sedia Di quelle rotelle elettriche Che girano, ok? E tu sei lì con tutte le luci, sei sul palco Sei sul palco e hai Dei coltelli Legati alla sedia che gira Ci sono degli animali legati Anche lì, quando giri Gira la sedia E colpisce gli animali Gli animali sanguinano e muoiono Nel frattempo, vicino a te Delle ballerine Le ballerine le prendiamo Che ho visto Ci sono Senza Mi senti? Senza i seni Le prendiamo così Dietro Mettiamo delle belle immagini Della seconda guerra Grosse Belle così che vanno Te che balli, tu che giri Le ballerine Il presentatore Che chiave Che a un certo punto guarda E anche lì Zoom digitale su di lui Che si masturba No Allora senti me Allora facciamo Nero Titolo Parte la musica Non tutti sanno Che dopo la propria morte Si cade in un buco Con infinite possibilità La morte Ti permette Di diventare Un qualsiasi oggetto O gesto del mondo Per poi ritornare A cadere Continuamente Attraverso i corpi Della vita dell'uomo Si può diventare Un portafoglio Si può essere Il movimento Dell'aprire il portafoglio Si può essere Una porta chiusa O una porta aperta Si può diventare Una chiave La toppa Nel quale si infila la chiave Un bicchiere Un bicchiere riempito Bere un bicchiere Scartare una caramella Il gusto della caramella Allacciarsi le scarpe Aprire un rubinetto Un tasso del computer Ma la cosa peggiore Che ti possa capitare È diventare Il tuo cadavere Qui Facciamo Ora La cena Quella del testamento Qui Ci sarà Una bara Ok Io sarò vestito Del Dracula Da vampiro Ok Quindi con i denti Eccetera Metto qui Facciamo sta roba qui Tu vai là E poi parte Uno zoom digitale Che arriva da lì Capito Io mi metto lì Così E poi Si mette E si fa Lo zoom digitale Capito Io muoio Io Sottoscritto Giacomo Laser In pieno possesso Delle mie capacità Lascio A titolo Di legato All'intera umanità La facoltà Di uccidermi Senza conseguenze Il mio possibile assassino Non potrà essere punito Con nessuna forma legale O perseguito moralmente Lascio la somma Di 34 ore 30 Così come tutti i miei beni Mobili E immobili Alla mia banca Se dovesse avere animali Con me Nel momento Della mia morte Chiedo Che vengano soppressi E che vengano Seppelliti con me Sulla mia lapide Dovrà essere affissa Una fotografia A doppio riflesso Con una foto Di me Allegro E una foto Di me Triste Con affetto Giacomo Laser Qui Che Io non so Effettivamente Qui se io Evoco qua Se Qua Chi è che Bael Probabilmente O farai Non so Però Se c'è differenza Tra Che io lo legga Qui sul monitor O se lo scriva Però Perché Tutto pronto Io ci provo Speriamo vada Boh Ce l'abbiamo Speriamo vada Speriamo vada Speriamo vada Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti